Continuano gli avvistamenti super importanti a questi campionati italiani assoluti in Master 2016 siamo in compagnia di due super super campioni Francesco Lollico e Lev Grafacini intercettati anche loro tra un round e l'altro in attesa delle premiazioni di una delle regine della danza sportiva la classe standard 19-19 Allora, quali sono i nostri pensieri su questa emizione che si sta chiedendo tra un'ora? Si smontra tutto? No, sicuramente i pensieri sono positivi è stata una bella emozione partecipare a questo campionato l'organizzazione è stata favolosa la utenza è magnifica, la vita del pubblico è straordinaria ci siamo veramente divertiti a ballare questa competizione dall'inizio alla fine quindi siamo veramente contenti della nostra performance Ok, Deborah, siete pronti? Anche tu per cosa pensi? Sì, anche per me è sempre una bellissima esperienza ballare a Rimi nei campionati italiani perché è una bellissima atmosfera l'orchestra è bellissima è sempre un piacere ballare in Italia Siamo felicissimi di avervi rubato questi due minuti tra una premiazione appunto che sta per iniziare quindi li lasciamo andare magari avremo modo in futuro di rivederci e di chiacchierare un po' insieme Sicuramente Salutiamo tutti dal nostro canale Ciao, alla prossima Ciao Ciao Ciao